Dal 1 luglio arriva il bonus vacanze in Calabria al Via anche i saldi estivi. Arriva il bonus vacanze, ma non solo. Dal 1 luglio in Calabria partono anche i saldi estivi 2020. Una decisione annunciata dalla Regione nelle scorse settimane è quella di anticipare l'apertura dei saldi estivi per sostenere quelle attività particolarmente colpite dal blocco totale delle loro attività. Scattano inoltre anche altre misure pensate per aiutare le famiglie e i lavoratori nel post emergenza sanitaria da coronavirus. Al Via infatti anche il super bonus al 110% e 100 euro in più in busta paga. Una busta paga più pesante per 16 milioni di lavoratori dipendenti, qualche soldo in più anche per chi ha come benefit l'auto aziendale ecologica. E bonus per le vacanze a patto di scegliere un luogo di villeggiatura in Italia. Solo alcune delle novità che partiranno in questo primo giorno di luglio, frutto in parte di norme vecchie ed in parte di misure messe in campo per aiutare l'economia a rialzarsi dopo l'emergenza coronavirus. Per pagare tra l'altro dovrebbe diventare più facile usare carte e bancomat visto che i contanti si potranno usare di meno. Il tetto scende da 3.000 a 2.000 euro e i commercianti avranno uno sconto fiscale sulle commissioni. Per chi punta a ristrutturare casa il giorno per far partire i lavori resta sempre quello del primo mercoledì di luglio, momento dal quale scatta il super bonus al 110%. Lo sconto fiscale che vale per la riqualificazione energetica degli edifici e per la messa in sicurezza antisismica è ancora oggetto delle modifiche del Parlamento al decreto rilancio e ancora mancano le regole dell'Agenzia delle Entrate per accedere all'agevolazione che al momento si applica solo alle prime case e alle seconde case in condominio, non a quelle unifamiliari. E per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. Tra le possibili modifiche un prolungamento del 2022 e l'estensione a tutte le seconde case. Il credito d'imposta, novità introdotta sempre con il decreto rilancio, si potrà accedere a terzi, comprese banche e finanziarie. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Tallini a Callipo contro il Consiglio regionale, critiche ingiuste, torni sui suoi passi. Mi sforzo senza trovarle le motivazioni vere ed autentiche delle dimissioni presentate dal Cavaliere Callipo. Sul piano regionale mi dolgo di questa decisione che priverebbe l'opposizione della sua guida naturale. Me ne dolgo anche sul piano dei rapporti personali, poiché il Cavaliere Callipo è persona non solo rispettabile, ma soprattutto dotata di qualità etiche e professionali di notevole spessore. Commento con queste parole il Presidente del Consiglio regionale, Domenico Tallini, l'annuncio delle dimissioni dell'Assemblea di Pippo Callipo, capogruppo di Io resto in Calabria, e guida della coalizione di centro-sinistra nella competizione elettorale regionale del 26 gennaio scorso. Trovo però eccessive e perfino ingiuste, osserva Domenico Tallini, le critiche rivolte ad un Consiglio regionale che si è insediato da pochi mesi all'indomani di un'emergenza epocale e che ha dovuto fare i conti con una situazione di straordinaria gravità. Ci sono stati, prosegue il Presidente dell'Assemblea di Palazzo Campanella, lo riconosco, alcuni errori di valutazione, alcune incertezze, soprattutto alcune incompressioni tra maggioranza e opposizione, che non hanno fatto bene all'istituzione, ma ciò non giustifica certe valutazioni espresse dal Consigliere Callipo che tenderebbero ad accreditare l'immagine di un Consiglio delegittimato e privo di responsabilità istituzionale. Ancora Tallini, niente è stato fatto in questi mesi di irregolare. Ogni provvedimento licenziato dall'Assemblea è stato adottato nel rispetto dello Statuto e del regolamento. Quando si è incorsi in errori di valutazione, che hanno coinvolto anche lo stesso Consigliere Callipo, abbiamo avuto il coraggio e l'umiltà di riparare. Ho l'impressione che le forze dell'antipolitica, con le loro campagne denigratorie, abbiano influenzato molto la decisione del Cavaliere Callipo, che non si è sottratto alla tentazione di sottolineare una sua diversità, dimenticando però quali sono le responsabilità nei confronti degli elettori che lo hanno votato e delle forze politiche che lo hanno candidato. Per tali motivi, conclude il Presidente Tallini, conoscendo la sensibilità umana e politica del Cavaliere Callipo, gli chiedo, interpretando, credo, il sentimento unanime dei gruppi consigliari di maggioranza e di opposizione, di tornare sui suoi passi e di ritirare le dimissioni, garantendo così il suo contributo di passione politica e competenza, non tanto e non solo della sua parte politica, quanto a tutta l'Assemblea. Lo faccio senza timore, senza farsi condizionare dai giacobini dell'antipolitica, senza nessun senso di colpa. Lo faccio per la sua storia personale e per il rispetto che si deve alla massima istituzione della Calabria. Per Tele Ionio, Anna Maria Colabraro. Dimissioni di Callipo. Pietro Paolo, non bisogna gettare la spugna lasciando gli spazi alla cattiva politica. Sono profondamente dispiaciuto per la scelta di Pippo Callipo di rassegnare le proprie dimissioni. Lo conosco da tanto tempo per ragioni professionali e imprenditoriali e comprendo quanto possa essere frustrante per un uomo che ha improntato tutta la sua vita alla concretezza, all'efficienza e soprattutto alla linearità dei comportamenti impattare con le liturgie e i meccanismi di un sistema politico-istituzionale che a volte non sembra in grado di reagire con tempestività ed efficacia alle istanze e ai bisogni di una società calabrese che soffre decenni di ritardi nello sviluppo, nelle infrastrutture, nei servizi, nella valorizzazione delle proprie potenzialità inespresse. Per questo ritengo che personalità come Callipo non debbano gettare la spugna e dare segnali di rassegnazione e anzi debbano rafforzare il loro impegno nelle istituzioni per quanto possano sentirle strane e inospitali. E quanto afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Filippo Pietropaolo, che argomenta la sua riflessione è una chiamata di responsabilità a cui non possiamo sfuggire. Lo dobbiamo ai cittadini, alle giovani generazioni, a quello studente che proprio a Callipo ha chiesto di farsi garante del cambiamento convincendolo a scendere in campo. Deve essere la politica con i suoi uomini a cambiare le liturgie improduttive che non sono certo appannaggio di una singola parte politica e a trasformarle in confronto reale, vero, approfondito, sui temi che riguardano la vita dei cittadini, la loro quotidianità e il loro futuro. Le dimissioni di Pippo Callipo rappresentano una grave perdita non solo per la minoranza ma per l'intero Consiglio e l'intera amministrazione regionale perché un'opposizione di qualità attenta, intransigente ma anche costruttiva è un presupposto indispensabile per assicurare un'azione di governo sana e sempre orientata al bene del Comune. Daniela Maiolo per Tele Ionio 45.000 euro di bonus al Direttore Generale della Sanità Santelli nel Mirino dei 5 Stelle, cancelli questa porcata. Come avevamo previsto la Regione Calabria guidata da Iole Santelli ha assegnato un bonus di stipendio di 45.000 euro all'anno al Direttore Generale del Dipartimento Regionale Tutela della Salute l'ex Direttore Generale di Agenas Francesco Bevere cui evidentemente non bastavano 135.000 euro annui per svolgere questo nuovo incarico. Così, grazie a questa sfacciata operazione degna della peggiore casta il manager si porta a casa 180.000 euro all'anno in barba al piano di rientro e con buona pace della sanità calabrese ormai ridotta alla canna del gas. Lo affermano in una nota i parlamentari Movimento 5 Stelle Bianca Laura Granato, Francesca Sapia, Paolo Parentela e Giuseppe Di Polito che rincarano la dose. Questa è la rivoluzione della Santelli e delle sue truppe, cui la recente porcata dei vitalizi non ha evidentemente insegnato alcunché. La sanità regionale non ha soldi e loro trovano risorse aggiuntive per pagare una dirigente apicale che ha già uno stipendio da Nababbo. Questi personaggi in cerca d'autore del centrodestra sono gli stessi che lo davano l'operato di medici ed infermieri nell'emergenza Covid, salvo poi svuotare le casse pubbliche per premiare i loro graditi burocrati, ancor prima che se ne vedevano i risultati. Riteniamo vergognoso, attaccano i 5 Stelle, questo comportamento della Presidente e della sua maggioranza, a cui chiediamo, soprattutto alla luce della gravissima crisi economica in corso, di fare marcia indietro e di cancellare questo bonus vergognoso, del quale non c'è alcun bisogno. Ai consiglieri regionali del centro-sinistra, concludono i parlamentari 5 Stelle, chiediamo invece di attivarsi immediatamente per modificare la legge regionale numero 8-2010, grazie alla quale è avvenuta quest'ennesima trovata spregiudicata dei burattinai politici della Presidente Santelli. Per Tele Ionio, Anna Maria Colabraro. Assessore Catalfamo è indagata anche per omicidio colposo. I 5 Stelle incalzano la Santelli e muta. L'assessore della Regione Calabria, domenica a Catalfamo, è indagata per concorso esterno con l'Andrangheta, secondo il Fatto Quotidiano, e condannata per omicidio colposo, secondo il Quotidiano del Sud. O la Presidente Iole Santelli non legge i giornali, oppure le serve dell'altro per cacciare dalla sua giunta a Catalfamo, su cui non ha speso una parola, come se la stampa raccontasse Barzellette. Lo affermano in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle, Francesco Sapia, Bianca Laura Granato, Paolo Parentela e Giuseppe Di Polito, che incalzano. Ci chiediamo in quale pianeta viva la Presidente Santelli, e se è vero che teme provvedimenti giudiziari nei confronti disponenti della sua maggioranza, quanto tempo voglia ancora aspettare prima di dare un segnale di etica e responsabilità politica ai calabresi, che di certo non l'hanno votata per pettinare le bambole o per ignorare fatti, circostanze e questioni molto serie di opportunità. Per l'ennesima volta, concludono i parlamentari del Movimento 5 Stelle, chiediamo a Santelli di sostituire la Catalfamo, possibilmente trovando un nuovo assessore che non abbia indagini pesanti o con danni gravi a suo carico. Daniela Maiolo, per Tele Ionio. Partenza a rilento nel Basso Ionio, molteplici promozioni per attrarre più turisti, le associazioni lanciano pacchetti last minute destinati alle famiglie. Soffre delle incertezze delle variabili nazionali e internazionali la ripartenza turistica nel Basso Ionio catanzarese nell'estate del Covid-19. Gli operatori del settore parlano di un quasi totale azzeramento del turismo estero che generalmente già in questa fase dell'anno faceva segnare un dato significativo di presenze sul territorio. Tantissimi gli stranieri, soprattutto provenienti dal nord Europa, che sceglievano le rive dell'Oionio per il loro soggiorno estivo, già a partire dal mese di giugno. Al momento invece la quasi totalità delle prenotazioni si registra per il mese di agosto, quando si prevede un boom di presenze. Per tentare di allargare la finestra degli accessi turistici, operatori riuniti nell'associazione Riviera e Borghi degli Angeli, che già nelle settimane scorse si erano interfacciati con le regioni Calabria attraverso proposte di rilancio, hanno elaborato alcune proposte e strategie per incentivare l'arrivo di turisti e visitatori alla ricerca di un'oasi di tranquillità. L'ultima iniziativa riguarda la promozione di una campagna speciale luglio-settembre vacanze in Calabria Ionica fra Borghi e Mare. L'obiettivo è riuscire ad intercettare flussi di turismo di prossimità regionale, interregionale e domestico nazionale, con un target preciso di coppie e famiglie con bambini, puntando sulla Calabria come destinazione post-Covid, visto il basso indice di contagiosità e l'ampiezza delle sue spiagge. Ma la chiave per comprendere la ripartenza rallentata dalla pandemia è, secondo gli operatori del settore, soprattutto quella legata al prolungamento della stagionalità, con la creazione di incentivi fiscali per le aziende turistiche che operano nelle basse stagioni, dando vita ad un nuovo sistema di ferie per gli italiani e migliorando, per esempio, il turismo sportivo e di benessere. È parte della strategia raccontata dal presidente di Riviera, Francesco Leto, per sviluppare ulteriormente l'offerta e proposta turistica e per massimizzare il momento di ripresa post-Covid, ha spiegato, abbiamo confezionato campagne last minute per luglio 2020, anche lavorando con altre associazioni, ad esempio con l'associazione italiana Allenatori Calcio per quello che speriamo sia un evento ricorrente, la vacanza dell'allenatore. Esempio di destagionalizzazione è la campagna speciale luglio-settembre, vacanze in Calabria Ionica, Fra Borghi e Mare. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Welfare, il Comune di Soverato stoppa le rette, ma la Regione incalza andare avanti senza indugio. È incomprensibile l'atteggiamento di chi ha sempre sostenuto la pseudo-riforma del welfare ed ora, nonostante la Regione abbia fatto per intero la sua parte, si rifiuta di osservarla, ponendo a rischio servizi e posti di lavoro. Così l'assessore regionale al welfare Gianluca Gallo commenta la decisione del Comune di Soverato, capofila dell'omonimo ambito, di non garantire, a partire dal 1 luglio, la copertura delle rette degli utenti assistiti dai centri operanti nel territorio di riferimento. Pare che la posizione del Comune, spiega Gallo, sia dettata dall'esigenza di ricevere dall'assessorato chiarimenti e direttive. In realtà, premesso che l'assessorato non è certo legittimato a fornire direttive tecnico-giuridiche, vede a dire che il Dipartimento competente attraverso il settore servizi sociali già ai primi di giugno aveva fornito ogni utile informazione e ragguaglio. Da un punto di vista istituzionale, la posizione assunta dal Comune di Soverato pare fuori luogo se sol si considera che, proprio per definire ogni questione afferente l'attuazione delle deformante riforma del welfare, è già in programma, da giorni, uno specifico incontro con i Comuni capi ambito, in programma nella giornata del 2 luglio. Da un punto di vista prettamente politico, prosegue Gallo, la decisione assunta pare essere invece pretestuosa e strumentale. Da sempre andiamo sostenendo che la DGR 503 presenta lacune ed anomalie da correggere e per questo siamo stati oggetto di attacchi e polemiche, finendo addirittura con l'essere accusati di voler privilegiare oscuri poteri forti. Adesso, invece, chi quella riforma ha difeso la blocca inopinatamente, mettendo a repentaglio sia i cittadini sia gli operatori del comparto. Chiosa, l'assessore Gallo, mi auguro, si tratti di semplici errori di valutazione destinati a venir meno già in occasione del richiamato incontro del 2 luglio. Ad ogni modo, alla luce della situazione determinatasi, attraverso il settore servizi sociali, la Regione ha già chiarito la vicenda. Le competenze sono state trasferite ai Comuni, ai quali di recente sono state anche trasmesse le somme necessarie nella misura del 60% dell'importo annuo preventivato per il 2020. Da qui, pertanto, l'invito al Comune di Soverato a voler assumere tutte le determinazioni necessarie nell'attesa di addivenire a quella radicale revisione della pseudoriforma del welfare, i cui limiti oggettivi, da noi sempre segnalati, iniziano adesso ad emergere pericolosamente per la tenuta del sistema. Daniele Maiolo, per Teleionio. Squillace, in Consiglio Comunale, entra Giuseppe Facciolo. Giuseppe Facciolo, primo dei non eletti del gruppo di opposizione, Squillace in movimento, entra e fa parte del Consiglio Comunale. Prende il posto del dimissionario Luca Occhionorelli, che si è dimesso per motivi personali. Presa d'atto delle dimissioni e convalida dell'elezione, sono state decise all'unanimità nella seduta di Consiglio, svoltasi domenica sera. Facciolo ha prima preso posto accanto alla sua compagna di gruppo, Anna Maria Mungo, e poi ha abbandonato i lavori per il fatto che i tempi ristretti non mi hanno permesso di esaminare con compiutezza i documenti relativi alla seduta, non avendo contezza degli argomenti trattati. La riunione vedeva all'ordine del giorno anche quattro punti relativi alla vicenda della contestata delibera di Consiglio del 9 maggio scorso sulla concessione in proprietà delle aree comprese nei piani di edilizia economica e popolare convenzionata, concessa in diritto di superficie agli attuali proprietari degli alloggi dietro il pagamento di un corrispettivo. Una delibera che era stata adottata all'unanimità dei presenti, mentre secondo l'opposizione avrebbero dovuto astenersi il Sindaco e quei consiglieri in condizioni di conflitto di interessi. La maggioranza guidata dal Sindaco Pasquale Muccari, riconoscendo tale situazione, ha rimediato portando in Consiglio l'annullamento in autotutela della delibera adottata e la riapprovazione della pratica, proposta all'attenzione dei consiglieri, però in due punti separati, rispettivamente relative ai fabbricati edificati dalle imprese Baiocco e Gatto. L'operazione riguarda circa 100 nuclei familiari residenti in Squilla Celido, nei due fabbricati costruiti a cavallo tra gli anni 80 e 90. Dopo l'annullamento deciso all'unanimità, ha preso la parola la consigliera Mungo, che ricostruendo il travagliato iter della pratica, ne ha chiesto il ritiro, in quanto è inficiata da gravi vizi procedurali e di legittimità che travolgerebbero gli atti conseguenti. Mungo ha lamentato anche il mancato inserimento nel piano delle allenazioni dei beni immobili interessati al diritto di superficie da alienare. Una posizione spostata dagli altri consiglieri di minoranza, Oldani Mesoraca e Denzo Zofrea, secondo i quali se si fosse attivata la conferenza dei capigruppo e insediate le commissioni permanenti, non ci sarebbero stati problemi nell'istruzione delle pratiche. L'autorizzazione relativa all'immobile Baiocco è passata con sei voti a favore, essendosi allontanati i tre consiglieri della maggioranza, mentre quella per le case Gatto è stata ritirata per mancanza del numero legale, in quanto in aula erano rimasti solo tre consiglieri, essendosi presentato il problema del conflitto di interesse, prima non ravvisato, di un altro consigliere di maggioranza che ha dovuto lasciare l'aula. Serra, l'ex vicesindaco allontanato dalla maggioranza, infiamma il dibattito pre-elettorale. Ci vuole davvero faccia a ripresentarsi. La grotteria attacca gli ex amministratori. Nella città di San Bruno è tutto un andiriviene di riunioni e accordi in vista del voto di settembre per il rinnovo degli organi amministrativi. Sono giornate in cui tanti si chiedono chi ci sarà ai nastri di partenza per la conquista del palazzo di città. La curiosità comune però è su dove si collocheranno i tre fuoriusciti dal PD e letteralmente cacciati dalla maggioranza dell'ex sindaco Luigi Tassone, Walter la grotteria, Valeria Giancotti e Brunella Albano. I dissidenti comunque si collocheranno molto probabilmente dalla stessa parte. Ma dove? Ancora non si può dare una risposta al quesito. Fatto sta che tra riunioni e scambi di idee con i gruppi politici del luogo presto si conoscerà la loro collocazione. A intervenire sul tema politico cittadino è stato Walter la grotteria, il quale senza mezzi termini si è scagliato contro l'ex amministrazione dell'annesto, così la definisce. Dopo che noi tre abbiamo deciso di lasciare il PD, ha evidenziato la grotteria, ci hanno cacciato fuori dalla maggioranza. Creavamo dei problemi secondo loro e quindi l'amministrazione comunale per colpa nostra stava subendo uno stallo. Avevano bisogno di rilanciare e noi eravamo un problema. Da quel momento per il bene della cittadina e per rilanciare l'attività amministrativa hanno fatto l'innesto con il centrodestra, ma da allora io non ho visto nessun rilancio. La grotteria tra l'altro non trova una spiegazione al fatto che il gruppo PD centrodestra possa presentarsi ancora davanti alla cittadinanza dopo quello che non ha fatto, buttando fuoco e fiamme sugli ex amministratori. Ci vuole coraggio, attuonato l'ex vicesindaco, a presentarsi ancora una volta alla cittadinanza. Hanno lasciato un comune in predissesto con tutte le tasse elevate al massimo livello, senza acqua potabile, dopo i lavori per distaccarsi parzialmente da Sorical, senza l'approvazione del PSC, il piano strutturale comunale, e hanno inaugurato le opere finanziate all'amministrazione comunale precedente alla nostra loro. L'unica opera pubblica di cui si sono interessati è stato l'adeguamento sismico con conseguenti interventi strutturali sulla scuola Zaria Tedeschi, tenendo alloggiati in altri istituti i piccoli studenti, e non si sa ancora per quanto tempo. Questo gruppo non ha fatto altro che mettere in risalto la sua incapacità di gestione e adesso si ripresenta alla cittadinanza. I tre dissidenti nel febbraio 2019 avevano reso nota la decisione di abbandonare il PD, cosa che, secondo loro, non avrebbe incrinato il buon andamento dell'amministrazione, anche perché la grotteria, Albano e Giancotti avevano dato la loro disponibilità a continuare il percorso amministrativo con i loro ex compagni di partito. Ma qualcosa è andato storto e i tre sono stati allontanati dalla maggioranza e costretti a occupare gli scranni dell'opposizione. La tenuta dell'amministrazione Tassone era stata messa in crisi se non fosse accorso a sostegno del gruppo dell'ex deputato Piddino Censore, il suo acerrimo nemico del centrodestra, Nazareno Salerno. Comune di Tropea, gli appalti nel mirino della Guardia di Finanza. Finisce anche il restauro di Piazza Vittorio Veneto nel mirino degli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valencia, nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, che oggi ha compiuto una visita al Comune di Tropea prelevando diverse pratiche, CD, atti nell'ufficio tecnico ed in quello finanziario. In particolare l'attività delle fiamme gialle si concentrava sulla destinazione dei fondi incassati dall'ente con la tassa di soggiorno, il versamento da parte degli operatori turistici ed anche sulla regolarità dei costi di alcuni lavori pubblici. La nuova piazza, che è stato oggetto di un res styling, è stata inaugurata il 2 giugno scorso alla presenza, oltre che del sindaco Giovanni Macri, anche del prefetto di Vibo Valencia, Francesco Zito, della Presidente della Giunta della Regione Calabria, Iole Santelli e del Senatore di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori. Nel mirino della Guardia di Finanza, anche altri appalti, seguiti dall'amministrazione Macri, dal suo insediamento ottobre 2018 ad oggi e la possibile lievitazione dei costi in corso d'opera. Su quanto prelevato una cospicua mole di documenti, gli investigatori mantengono uno stretto riservo, onde non pregiudicare lo sviluppo delle indagini che potrebbero portare ad ulteriori novità in tempi brevi, anche in relazione alle stesse modalità di riscossione della tassa di soggiorno e dal suo più generale impiego da parte del Comune di Tropea. Per Tele Ionio, Anna Maria Colabrano. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Vittorio Gassman, cittadino di Chiaravalle, il ricordo della consulta della cultura, l'indissolubile legame tra le città delle preserre e l'attore scomparso a Roma il 29 giugno del 2000. Alle soglie degli anni 80, il grande Vittorio Gassman riceveva dalle mani dell'avvocato Francesco Squillace il premio nazionale Chiaravalle, cui sarebbe seguito il conferimento della cittadinanza onoraria di Chiaravalle Centrale il 18 settembre 1982. A vent'anni esatti dalla morte dell'inemitabile mattatore del cinema e del teatro, la consulta comunale della cultura di Chiaravalle Centrale, con una nota, ha voluto ricordare l'indissolubile legame tra le città delle preserre e l'attore scomparso a Roma il 29 giugno del 2000. Nel 2022 si celebrerà anche il centenario della nascita, sottolinea il suo Dalizio, e quella data potrebbe essere il momento giusto per onorare l'istrionico protagonista della cultura italiana del 900 e il suo intenso rapporto con la Calabria e la città di Chiaravalle Centrale. Nel cinema, Gassman diede probabilmente il suo meglio tra gli anni 50 e 60. Nel 1965, il New York Times Magazine scrisse di lui probabilmente non c'è in tutta Europa un altro attore in grado di rappresentare così bene un uomo che perde tutta la sua dignità mentre allo stesso tempo si aggrappa alle briciole del rispetto per sé che gli restano. Recita con sensibilità e tensione interiore la sua faccia, nonostante i lineamenti classici, è infinitamente mobile ed espressiva. Indimenticato e indimenticabile, ribadisce e conclude la consulta comunale della cultura che con orgoglio ripropone alcune foto d'epoca di Gassman a Chiaravalle insieme al compianto avvocato Francesco Squillage che della consulta è sempre stato entusiasta e partecipe componente. Don Roberto Corapi lascia Staletti al suo posto Don Rosario Greto. Un nuovo incarico, una nuova sede per Don Roberto Corapi che dopo 17 anni lascia la comunità come parroco alla guida della parrocchia Santa Maria Assunta. Una notizia comunicata nel corso della messa domenicale. Nei prossimi giorni comunque Don Roberto saluterà la sua comunità il 5 luglio in Piazza Roma, dove alle ore 18.30 celebrerà una santa messa alla presenza dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Alfonso Mercurio. Il nuovo incarico ad Amaroni, dove andrà a guidare la parrocchia dedicata a Santa Barbara, insediamento previsto per il 7 luglio alle ore 18.30, mentre nella comunità di Staletti farà il suo ingresso giorno 8 luglio Don Rosario Greto, originario di Girifalco, ora viceparroco a Torre di Ruggero. In ogni nuovo cammino si lascia sempre un bilancio. Nel caso di Don Roberto Corapi sono stati anni di grande lavoro. Da giovane sacerdote ha ereditato una parrocchia guidata per oltre 35 anni dall'arciprete Don Eugenio Marcella, figura di spessore e profondo teologo. I suoi primi anni di lavoro Don Roberto ha dato un'impronta sociale ricostruendo una serie di gruppi da azione cattolica, Cenacoli di preghiera di Natuzza Evolo, gruppo dell'Immacolata, catechisti. Il suo fiore all'occhiello, oratorio cuori gioiosi, che con oltre 300 iscritti polarizzava l'attenzione di tutte le fasce di età, garantendo per oltre due mesi educazione, svago e contenuti. Il suo spirito allegro e sorridente, conosciuto nel suo comprensorio con il titolo di Don Smile, Don Sorriso, l'ha fatto subito amare per il suo carattere accogliente e pronto al dialogo. Sul piano pastorale ha lavorato tanto, sia sul piano umano, con contatti e organizzando eventi religiosi civili e culturali. I suoi due volumi di esegese e tradizioni, ma soprattutto la ricostruzione della chiesa dedicata a Santa Maria Assunta. Se dobbiamo usare un termine, Don Roberto è stato un instancabile comunicatore. Ha usato parole ad effetto, ha creato un modo personale di portare il Vangelo a tutti. In questi anni, grazie alla sua collaborazione con l'emittente televisiva Teleionio, ha curato una serie di rubriche religiose, in occasione del Natale e della Pasqua, portando in tutte le case gli insegnamenti del Vangelo. Un'eredità che ora è lasciata al nuovo parroco, che dovrà prendere le eredini della parrocchia, mentre Don Roberto Corapi proseguirà il suo impegno pastorale nella vicina Amaroni. Lì sicuramente porterà il suo stile, il suo sorriso, la sua energia. Tanti auguri, Don Roberto. Per Teleionio, Anna Maria Colabrano. I carabinieri ritrovano i giuielli rubati a Torre Ruggero, refurtiva recuperata in pochi giorni, gli stessi malviventi avrebbero tentato un altro furto a Chiaravalle. I carabinieri sono riusciti a mettere le mani su orologi e monili rubati domenica, in una casa a Torre Ruggero. La refurtiva era il frutto di una rapina, che due uomini erano riusciti a portare a termine entrando in un'abitazione, i cui proprietari erano momentaneamente assenti. Le segnalazioni ai carabinieri di Cardinale erano state fatte da alcuni residenti che avevano notato movimento. Grazie alla denuncia, i militari erano riusciti a stabilire l'esatto ammontare del furto e gli oggetti sottratti. I carabinieri hanno recuperato dieci orologi, catenine e altro materiale di valore. Il tutto era in una borsa che è abbandonata lungo una strada che collega il piccolo borgo Normanno a Cardinale. Il materiale, dopo i riscontri, è stato riconsegnato ai proprietari. Nella stessa giornata di domenica, i due rapinatori avrebbero tentato un'altra effrazione, in questo caso a Chiaravalle Centrale, in una casa di via Mario Ceravolo. Qui, secondo indiscrezioni, sarebbero arrivati a bordo di un'auto, ma stavolta hanno trovato la proprietaria in casa. La donna, alla vista dei due malviventi, si è messa ad urlare, facendoli desistere dal portare a termine il secondo furto. Per i carabinieri arrivare all'identificazione dei due sarebbe ormai questione di ore. Il luogotenente Giovanni Falsanesi, comandante della stazione di Chiaravalle Centrale, ha acquisito, tra l'altro, una serie di filmati e di riprese registrate da alcune telecamere private che si trovavano a lungo via Mario Ceravolo, nel grosso centro delle preserre. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Operazione Genesi. Alla prima udienza, il Ministero di Giustizia si costituisce contro Petrini e chiede 5 milioni di danni. Ha preso il via il processo con rito abbreviato per il giudice Marco Petrini, l'avvocato Francesco Saraco e il medico Emilio Santoro, i quali coinvolti nell'operazione Genesi sono stati ammessi al rito alternativo davanti ai giudici del Tribunale di Salerno. Nel corso di questa prima udienza, successivamente rinviata al 24 luglio, si è registrata la Costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Giustizia, che si sono dichiarati parte lesa rispetto agli imputati e in particolare Petrini, magistrato in servizio alla Corsa d'Appello di Catanzaro e Presidente della Commissione Provinciale Tributaria Accusato, tra gli altri reati anche di corruzione in atti giudiziari, ovvero di aver manipolato sentenze e provvedimenti in cambio di denaro, regali e anche prestazioni sessuali. In particolare, il Ministro della Giustizia ha chiesto 5 milioni di euro di danni a Petrini, a titolo di risarcimento per un danno di immagine, su cui ovviamente dovrà esprimersi in Tribunale Salernitano. Processo omicidio pagliuso, in aula la moglie del legale ucciso, ricostruisce gli ultimi istanti di vita. Ha ricostruito le ultime ore, prima dell'omicidio dell'avvocato penalista Francesco Pagliuso, ucciso il 9 agosto del 2016, davanti alla sua abitazione di Lamezia, Antonella Di Vasto, moglie del legale, nell'udienza tenuta questa mattina in corte d'assise a Catanzaro, nel processo che vede imputato il 35enne Marco Gallo, con l'accusa di essere l'autore materiale. Alla donna è stato chiesto di ricostruire le ultime ore dell'avvocato con cui aveva cenato, insieme al loro figlio, prima di rientrare nella sua abitazione di via Marconi. Sono stati quindi acquisiti tutti i verbali delle dichiarazioni, rese in fase investigativa, non solo dalla Di Vasto, ma anche dai residui testimoni del pubblico ministero, tra collaboratori di studio del noto penalista Lametino e componenti del direttivo della Camera Penale. Il processo è stato poi rinviato al 30 settembre per sentire il collaboratore di giustizia Rosario Cappello e gli ultimi due testimoni privati indicati dall'accusa. Successivamente toccherà ai militari del raggruppamento crimini violenti salire sul banco dei testimoni. Militari che proprio in questi mesi stanno elaborando un lavoro digitale che riassuma le risultanze del pedinamento elettronico del presunto killer, nonché del cellulare e del sistema satellitare installato sulla sua auto. Nell'ultima udienza, invece, erano state anche acquisite le dichiarazioni dell'avvocatessa Antonella Pagliuso, sorella di Francesco, e della quale sono stati acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini. Lascia il carcere per gli arresti domiciliari Giuseppe Prostamo Lascia il carcere e passa agli arresti domiciliari Giuseppe Prostamo, 34 anni, di San Giovanni di Mileto, accusato di concorso in omicidio e soppressione di cadavere ai danni del 26enne di scaliti di Filandari, Francesco Vangeli, nonché del reato di detenzione illegale di armi. La decisione è del Tribunale del Riesame di Catanzaro, che ha accolto un'istanza degli avvocati Sergio Rotundo e Giuseppe Grande. Era stata la Cassazione ad annullare con rivio al Riesame per i reati di omicidio e soppressione di cadavere contestati a Giuseppe Prostamo. Il Riesame, quindi, aveva confermato la decisione. Giuseppe Prostamo, tuttavia, restava detenuto per la detenzione illegale di armi. A seguito di un'istanza dei difensori, il GIP distrettuale aveva rigettato la richiesta di gradazione della misura avanzata dagli avvocati. Avverso tale decisione, i difensori Rotundo e Grande hanno quindi proposto un nuovo ricorso al Riesame, che ha ora accolto le loro argomentazioni, aprendo le porte del carcere per Giuseppe Prostamo, che restava detenuto per le armi e disponendo per lui gli arresti domiciliari. 31enne trovato in possesso di un fucile modificato, per lui arresti domiciliari. I carabinieri della compagnia di Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria, assieme ai cacciatori di Calabria, hanno arrestato PC 31enne disoccupato di Placanica, con l'accusa di detenzione di arma clandestina. Nel corso dei servizi perlustrativi rivolti alle aree rurali del territorio, i carabinieri hanno eseguito alcune perquisizioni finalizzate alla ricerca di armi e droga nelle campagne di Titi, impervia frazione di Placanica. Nell'ambito dei controlli, i militari hanno rinvenuto all'interno della camera da letto dell'uomo un fucile ad aria compressa, calibro 4,5, che opportunamente, sottoposto ad accertamenti balistici, è risultato modificato. Infatti, la molla al suo interno era capace di esprimere una potenza ben al di sopra del limite previsto dalla legge, pari circa a 20 Joule. Il fucile, considerato una vera e propria arma clandestina, è stato sottoposto a sequestro. Il giovane, già noto ai carabinieri che lo avevano arrestato nello scorso ottobre, quando fu trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari. Intercettati i 70 migranti su una barca a vela a largo della Locride, a bordo anche 11 bambini. 70 migranti di varie nazionalità sono stati intercettati la scorsa notte, mentre si trovavano a bordo di una barca a vela a largo della costa della Locride, da una motovedetta della Guardia di Finanza di Roccella Ionica, che li ha trainati dentro il porto delle Grazie. Del gruppo di migranti, in prevalenza afghani, pakistani, siriani, iracheni e iraniani, facevano parte anche 11 bambini e 10 donne. L'imbarcazione con a bordo i migranti, secondo le prime testimonianze raccolte dagli investigatori, sarebbe partita una settimana fa dalla Turchia. Subito dopo l'arrivo nel porto di Roccella, tutti i migranti sono stati sottoposti ai controlli sanitari e a tampone rino faringeo, per accertare la negatività o meno al Covid-19. Per il momento, in attesa dell'esito degli accertamenti sanitari, tutti i migranti sono stati sistemati all'interno del palazzetto dello sport di Roccella. A breve, però, saranno tutti trasferiti in strutture regionali più attrezzate e sicure. Reggio, tre misure cautelari per truffe assicurative, indagate 71 persone. Alle prime luci dell'alba, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, unitamente ad agenti della Polizia Metropolitana del Capoluogo Regino, hanno inflitto l'ennesimo duro colpo alla criminalità infestante la città di Reggio Calabria. Stamane, infatti, i militari della locale compagnia Pronto Impiego, unitamente al personale della Polizia Metropolitana, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale agli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale del Capoluogo, su proposta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, diretta dal procuratore capo dottor Giovanni Bombardieri, nei confronti di due soggetti reggini, D.F. classe 75 e G.C. classe 81, entrambi operanti nel centro cittadino, accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata a reati di falso materiale ideologico commessi anche da pubblici ufficiali, accesso abusivo e sistema informatico-telematico fraudolento, danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona, nonché di ricettazione. Con la medesima ordinanza, inoltre, è stato disposto l'obbligo di presentazione quotidiana alla PG nei confronti di un terzo soggetto, V.N. classe 79, anche gli reggino, nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un patrimonio di un valore complessivo superiore al milione di euro. Tra i beni sottoposti a sequestro, oltre a un'autovettura di lusso, vi è un'abitazione nella pittoresca Giardini Naxos Messina, una villa sita in Campo Calabro a Reggio Calabria. Daniela Maiolo per Teleionio. La DDA conferma l'accusa di concorso esterno all'ex sindaco Pitaro. Concorso esterno in associazione mafiosa, la direzione distrettuale di Catanzaro conferma la pesante accusa nei confronti dell'avvocato Giuseppe Pitaro, ex sindaco di Torre di Ruggero e fratello del consigliere regionale del gruppo misto Francesco Pitaro. Ieri infatti è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini alle 29 persone coinvolte nell'inchiesta Ortrus, che ha colpito le famiglie Iozzo e Chiefari, e gemoli nei territori delle preserre catanzaresi. Ad ottobre vi erano state 17 misure cautelari. In manette, assieme a boss e gregari delle cosche, ci sarebbe dovuto finire anche l'ex sindaco Pitaro. La richiesta però era stata rigettata dal GIP che aveva spiegato. Gli elementi indiziari prospettati evidenziano senza dubbio un'anomala contiguità, ma non sono idonei a sostenere l'ipotesi accusatoria. A distanza di otto mesi, il procuratore Nicola Gratteri, l'aggiunto Vincenzo Capomolla e il sostituto Deborah Rizzo confermano le ipotesi accusatorie nei confronti di Pitaro. Secondo la DDA, Pitaro, in passato avvocato di Antonio Chiefari, avrebbe agevolato le attività economiche di una società riconducibile al gruppo criminale, consentendo alla stessa di realizzare opere per conto del Comune per un totale nel corso degli anni di circa 390 mila euro, nonostante l'interdittiva antimafia emesse dalla prefettura di Vibbo e Catanzaro nel 2011. Questa informativa sarebbe rimasta chiusa nella cassaforte del Comune fino al 2015. Pitaro riferisce di non esserne mai venuto a conoscenza, non avendo il segretario comunale di allora ritenuto opportuno portare tale atto alla sua attenzione. Episodio questo che porterà alle dimissioni del primo cittadino. Ma gli inquirenti si soffermano sui rapporti personali con la famiglia Chiefari, emersi plasticamente nella campagna elettorale del 2011. In un comizio Pitaro faceva salire sul palco Domenico Chiefari, figlio di Antonio, quale rappresentante dei giovani torresi, con ciò esplicitando pubblicamente l'appoggio della famiglia Chiefari. Pochi giorni dopo, i carabinieri annotano un altro episodio e la sera del 14 maggio mancano solo poche ore all'apertura dei seggi e i militari dell'arma vedono passare in macchina insieme Pitaro e Domenico Chiefari. Quella stessa sera i militari accertavano che per le vie del centro abitato era stato affisso un manifesto con intestazione, avviso a tutti i cittadini torresi e nella parte finale Domenico Chiefari, un cittadino torrese, uno di voi. Dopo la vittoria delle elezioni Pitaro proponeva Domenico Chiefari quale assessore esterno in carico poi non accettato. Successivamente il giovane Chiefari veniva assunto quale operaio manutentore nel 2013 come agente della Polizia Municipale. Stando a quanto si legge nell'avviso di conclusione delle indagini, in questo modo l'Avvocato Pitaro avrebbe agevolato l'attività del sodalizio che risultava rafforzato nella sua capacità operativa, ossia dalla possibilità di introdursi negli appalti comunali e nelle attività di gestione dell'ente. Ne accresceva il senso di sicurezza e una maggiore manifestazione della capacità di condizionamento politico e amministrativo del territorio. Ora Pitaro e gli altri indagati avranno 20 giorni di tempo per essere ascoltati dal PM titolare del fascicolo o depositare memoria difensiva. Soltanto dopo la DDA potrà procedere con la richiesta di rinvio a giudizio o al contrario con la richiesta di archiviazione. Ed ora un avviso dall'ufficio tecnico della città di Chiaravalle Centrale. Si avvisa alla cittadinanza che per un improvviso guasto che ha interessato il serbatoio gestito dalla Sorical già investita della problematica per l'intero centro abitato potrebbe verificarsi la mancanza di erogazione dell'acqua fino al completamento dei lavori. Si comunica inoltre che è stata emessa ordinanza sindacale numero 198 del primo luglio 2020 che vieta l'utilizzo dell'acqua potabile per usi diversi da quello alimentare ed igienico sanitario ed in particolare si vieta l'uso della stessa per il lavaggio degli autoveicoli con sistema domestici per il lavaggio di spazi ed aree pubbliche o private per l'irrigazione ed innaffiamento di orti e giardini riempimento di vasche e piscine nonché per ogni altro uso improprio che comporti prelievi anomali dalla rete. di orti di orti di orti di orti Grazie a tutti.